Bella a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento, io sono Maullo e oggi torniamo a giocare con PES con, scusatemi, con Inspire Evolution Social 2 nella Master League con l'Inter Allora signori, scorso video, grande prestazione della nostra squadra, abbiamo battuto 3-1 il Buenos Aires che in tutto questo, non lo stai, il Buenos Aires era sopra di noi, era sopra di noi, quindi una vittoria importante una vittoria importante, e prima di portare il video, signori, vi ringrazio sempre per i like, per i commenti, per i progetti e per il supporto e vi ricordo sempre di iscrivervi al canale detto questo signori, non perdiamo altro tempo, partiamo dal video di oggi vediamo un attimino la classifica Marcatori, che non si muove più di tanto abbiamo Ronaldo e Bobancita sempre a quota 4, quindi niente di particolare e la classifica Assist Man, abbiamo Ronaldo e Claudio Lopez a primi a quota 3 insieme a un'altra botta di persone, di calciatori ma no, ce ne frega poco, scendiamo in campo signori scendiamo velocemente in campo calmi e concentrati, calmi e concentrati io ricordo sempre ragazzi che sto registrando in rapida successione ok, lui già, ah qui già me l'aveva caricata giusto in rapida successione, quindi lasciatemi sempre tanti commenti che io piano piano mi recupero e vedo sempre di metterli in atto loro giocano come giocare al Buenos Aires praticamente stessa formazione e noi ci presentiamo con la stessa formazione che ha asfaltato il Bueno, asfaltato magari è un parolone asfaltato è un parolone però, però, però signori, diciamo che diciamo che cioè ci abbiamo dato, ci abbiamo dato ok, gli stessi 11, gli stessi 11 dai, dai, no, 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 no giochiamo contro il Valencia Valencia, ok siamo a 31 punti con il mercato signori, una vittoria oggi potrebbe aprirci le porte nel prossimo video a un acquisto di calciomercato signori sono, 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 sono sincero sono Roni, Roni porca misera, Ronaldo mio potremmo sbloccarla subito dopo un minuto mannaggia a te mannaggia, mannaggia calma, calma, Boucher non ti farò anticipare calma, calma, signori siamo partiti benissimo siamo partiti bene Papagita per Claudio Lopez che vede l'inserimento di Boucher Boucher, Boucher può diventare Boucher la sblocca lui Inter 1 Valencia 0 la segna lui Boucher Pagasì bellissimo l'inserimento buco completo del Valencia e Boucher trova l'angolo proprio l'angolo stava tirando addosso sinceramente però, però, però noi va bene noi va bene che intanto siamo riusciti a sbloccarla e non è niente male non è niente male signori non è niente male riusciamo porca miseria calcio d'angolo calcio d'angolo mi indieta la battuta mi indieta la battuta parte tra persone per via centrale loro hanno decolpito le testa sapete che non mi ricordo se loro in attacco sono ben messi no, vabbè autogol autogol signori pareggia subito il Valencia per un autogol di Valeri eravamo nella tranquillità eravamo nella tranquillità Babangita 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 guadagno un fallo bravo Bamba bravo Bamba Ronaldo Ronaldo la deve giocare lui cazzo da Rolera Ronni cioè abbiamo avevamo il gol del vantaggio l'abbiamo perso per un cazzarola di autogol tu perché l'hai data indietro che c'aveva Ronaldo libero lì porca porcaccia di una misera Boucher attenzione Boucher 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 vede il Bamba che ha lo spazio il Bamba il Bamba il Bamba il Bamba il Bamba rientra il Bamba Ronni Vorlanden Vorlanden Babangita ancora Babangita 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 si allarga Babangita 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 non lo fermi Babangita vede Lopez ancora Babangita bella partita bella partita fino a questo momento signori bella partita combattuta combattuta su no mannaggia dai che gliela è levata Valeri 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 no signori Valeri si è giocato si è giocato la sconfitta Valeri si è giocato la sconfitta sta giocando malissimo Valeri Valeri sta giocando proprio male porca miseria porca miseria doveva uno nel Valenza signori con Ancelo Valenza la ribalta il Valenza la ribalta tutto da rifare per l'Inter però attenzione perché c'è un Babangita che è partito su quella fascia ma viene fermato sotto sto pallone Ronny la colpisce di testa per Ximenes però non tiene fisicamente mannaggia a lui ah io già immaginavo i punti vittoria ci faccio Claudietto Lopez guarda che guarda Ronny no Ronny perché l'ho visto che era scattato Ronaldo ho visto che Ronaldo era scattato perché non ci hai creduto Ronny perché non ci hai creduto mi ha fatto perdere il pallone Ronan Ronan attenzione bamba bamba attenzione c'è lo spazio bamba attenzione c'è lo spazio claudietto claudietto mannaggia claudio mio claudio mio Ronaldo per Babangita che riesce a girarsi Babangita inquadra la porta Babangita 2 a 1 2 a 2 dell'Inter 2 a 2 dell'Inter 2 a 2 dell'Inter Babangita questa volta riesce a inquadrare la porta al 28 Inter 2 Valencia 2 signori Ivanov grande così subito subito sotto Ivanov bravissimo bravissimo burset 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 guarda il bamba guarda il bamba che ha lo spazio per andarsene bravissimo claudietto lopez scudetto lopez tieni atti no no gliel'aveva levata gliel'aveva levata gliel'aveva levata mannaggia a voi gliel'aveva levata gliel'aveva levata gliel'aveva messo il piedino davanti gliel'aveva levata acibamba babangita 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 parte sulla fascia babangita buttata a terra dame in dieta cazzarola li potete anche ammonire però qualcuno di loro è giusto attenzione il traverstone niente da fare il pallone non arriva dove doveva ma grande grande valeri che si riscatta Claudio Lopez Claudio Lopez vede il pallone per Ronny mannaggia calma 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 traversa dai però ma non coschima Cioè era inciampato, era inciampato, era inciampato, gli avevamo levato il pallone, gli avevamo levato, gli avevamo levato, gli avevamo levato Bapangita, 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 nel minuto di recupero, Bapangita, Bapangita, niente signori, fine del primo tempo, vantaggio del Valencia per 3 a 2 Che cazzarola di partita signori, che cazzarola di partita, abbiamo cercato di rimanere concentrati e rimanere in campo E rimanere in campo Bapangita, non c'era, siamo andati in vantaggio, siamo fatti recuperare, siamo fatti soppassare, eravamo riusciti a ripassare in vantaggio Dai Ronny, dai Ronny Credici, mannaggia, non c'era, bursche, bursche Per Ronny, per Ronny, per Ronny, per Ronny, per Ronny Già, Ronaldo, ancora, per Bapangita, che lo manda nuovamente al bar, Bamba, il Bamba Mamma mia, che cavolo di errore che ho fatto, perché ho fatto questa cretinata, perché ho fatto questa cretinata Perché ho fatto questa cretinata No No Che ho fatto quella cretinata, eravamo messi benissimo, eravamo messi benissimo Al calcio d'angolo, Bapangita, ho riuscito a smarcarmelo Perché non ho tirato subito a Ronny, non ci arriva a Ronny di testa lì Subito, subito Al decimo, Ronny, niente Ronny non riesce ad intervenire di testa, signori Dai, 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 calma, calma, calma Tu l'angelo, tu l'angelo, vai Bamba, vai Bamba che ha le praterie Vai Bamba che ha le praterie Vai Bamba, vai Bamba, vai Bamba Tutta la porta libera aveva, tutta la porta libera Nel senso non ho la cosa di vinciamola per forza È giusto, però quantomeno riuscirla a pareggiare Non voglio fare il gol della vittoria Però di quanto meno riusciamo a pareggiarla Porca di una miseria infame Dai, dai, non riusciamo nemmeno a fare un passaggio giusto filtrante Ma porca miseria infame Boucher Claudietto Lopez Ronaldo Dai, non è vero Addirittura, 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 addirittura Incredibile, loro hanno fatto il gol del 3-2 E non hanno fatto più nulla Non hanno fatto più nulla È incredibile Dai che l'avevi Brunale Ma è vero, dai, l'avevamo bruciato L'avevamo superato L'avevamo superato L'avevamo superato Ma perché non mi devi Mi devi rompere così tanto le palle Cioè, dai, l'avevamo superato L'avevamo superato Vai Bamba Vai Bamba, passala Dai Ronny, dai Ronny, dai Ronny Pazzarola che gioco di squadra 3-3, dai così Che bel gioco di squadra Che bel gioco di squadra, signori Che bel gioco di squadra Che bel gioco di squadra Che bel gioco di squadra Riusciamo a evitare ora di farci nuovamente Segnare? Ci riusciamo? Ci riusciamo? Vi prego, vi prego Che bel gioco di squadra Cazzarola di una miseria Che bel gioco di squadra Dai Sono trascorsi 75 minuti Dall'inizio dell'incontro Gli l'avevo levata la palla Gli l'avevo levata la palla Mannaggia Alle vostre sorelle Che non sanno giocare a peste Claudio Lopez Dai che Claudio Dove la sai Prendere di testa la palla Dove solamente prenderla Indirizzarla Verso Calma 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 No 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 Bravissimo Bamba Bravissimo Bamba Guarda Boucher Riva a tenere tu sulla fascia Bamba Vai Bamba Vai Bamba E porca miseria Infame Porcaccia di una miseria infame Porcaccia di una miseria infame E che cazzarola di una miseria E che cazzarola di una miseria No 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 Vabbè dai dai Tu Ram che fa Questo giro su se stessa E non ri Ximenez Cerca qualcuno Cerca Ronny Vaci Bamba Vaci Bamba Per Ronny Per Boucher Per Claudio Lopez Che si ferma Chiepete il movimento Ronny Ron No Ronny 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 No Finisce qui Va bene Va bene Signori Va bene Va bene Va bene Va bene Un pareggio Un pareggio Acciuffato Un pareggio Acciuffato Tre gol Impressionanti Però Va bene Va bene Partita Partita Sudatissima Mamma mia 8 tiri 8 tiri A 9 Era in vantaggio Con i tiri Va bene Va bene Un gol Boucher Babangida Ronaldo Con assist Doppio assist Di Claudio Lopez E un gol Di Ronaldo E un assist Di Ronaldo Signori Va bene Va bene Tre punti Che ci portiamo A casa Sinceramente Tre punti Che ci portiamo In maniera molto Carina e coccolosa A casa Saliamo a quota 35 Va bene Va bene Mi sta bene Mi sta bene Questo 35 Lì Signori Questo 35 Lì Siamo noni A 8 punti E la classifica Si fa Si fa Si fa Rischiosa Abbiamo giocato Contro il Valencia Dove sta il Valencia Penultimo Bene Bene Va bene Ci siamo fatti fare 3 gol dal penultimo In classifica Però va bene Dettagli 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 Vi ringrazio Per questo video Vi ringrazio Per i like Per i commenti Per il supporto Vi ricordo sempre Di iscrivervi al canale Noi ci vediamo sempre qui Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao